allora oggi un'altra preparazione mia invenzione con quello che ho a disposizione tutto il rimo, la mia poesia facciamo un latte di mandorle un po' acisolo con succo di limone qui abbiamo queste poche mandorle che rovesciamo dal frullatore tiradotto poi andiamo qua a sprecare il limone meglio sprecare il grumi di acero che non è l'acido con quelli di plastica colorate anche la plastica e non si mangia il succo di limone con la plastica con un po' di plastica è meglio di dare non ci sono troppo di plastica che ingeggiamo ah però devo uscire l'acqua vabbè mo' ci giungo l'acqua lo fullo interrompiamo vado a prendere l'acqua filtrata non quale rubinetto che c'è proprio ma sempre quale rubinetto filtrata con filtrato con l'acero cloro e poi lo fullo e vediamo il risultato seconda volta andiamo alla seconda volta e poi vediamo il risultato adesso è andato andiamo alla seconda volta